Non si ferma l'azione della task force voluta dall'ex prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari per debellare il fenomeno dei bovini vaganti che interessa un territorio vasto della piana di Gioia Taolo in particolar modo tra Cittanova, Taurianova, Molochio, Rizziconi e Polistena una forza, quella voluta dal prefetto, composta da più corpi tra cui la Polizia di Stato l'Arma dei Carabinieri, i Carabinieri Forestali, la Guardia di Finanza, la Polizia Metropolitana di Reggio Calabria i medici veterinari dell'ASP provinciale, ma anche la collaborazione di alcuni enti come i comuni di Cittanova, Molochio, Terranova, Sappominulio con le loro polizie locali e il Parco dell'ASPromonte che in questi mesi hanno proceduto a individuare, sedare e trasportare tanti animali alla presenza dei rappresentanti del Comitato Cittadino Nobull di Cittanova Ad oggi il numero stimato dei bovini catturati o abbattuti si aggira intorno ai 300 capi un quantitativo tale che ha spinto il Comitato Civico Cittanovese ad esprimersi positivamente sull'azione della Task Force ma ad essere i più soddisfatti per quanto si sta facendo sono gli agricoltori della zona che da anni nelle loro proprietà subiscono da parte delle cosiddette vacche sacre devastazioni alle loro coltivazioni un compiacimento che li ha spinti a ringraziare tutte le forze impegnate nel debellare il fenomeno dei bovini vaganti ma in particolar modo i responsabili del Comitato Civico Nobull i quali con forza in questi mesi hanno sollevato il problema ed è uno di loro a dichiarare soddisfatto che la piaga non è stata del tutto eliminata ma che presto l'intera partita sarà chiusa con l'ausilio delle forze dell'ordine, polizie e carabinieri che sul territorio svolgono una mole di lavoro importante ma per non è stato importante Grazie.